In questa canzone raccontiamo quel travaglio del loro capo che si trova nella torre del Tempio a Parigi e sente un rivido, una premonzione, sa che lo aspetteranno diversi anni, una decina circa se non mi esiste, se non sbaglio, di processo e poi di tortura e robo, definito una finaccia. 13 ottobre 1303 13 ottobre 130 13 ottobre 130 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.